Prova di qualifica per soggetti di due anni, sono in due in questa prima prova, con il numero 1 Tarim, un valenna explosiva di Glauco Cicognani e un numero 2 Turandot, figlia di Iglesias e Tolemaide, con un Domenico Zanca, quali che sono già a metà della prima piegata, con più veloce per il momento Turandot, 400 metri che vanno in 32. Da parte di Turandot adesso si fa più vicino anche Tarim, un maschio, come dicevamo, che però sbaglia Tarim e quindi lascia da sola Turandot, che a questo punto dovrà gestire i parziali per proprio conto, quando si arriva adesso a metà del percorso. Turandot che fa un 1,4 scarsi, km per la figlia di Iglesias che sta per arrivare, andatura tutto sommato interessante, in 1,21 scarsi, si va così adesso di fronte, gli ultimi 450 metri di gara con Turandot che giunge alla paletta appunto dei 1.200, una frazione in 15,3, quindi in grado di abbassare un pochino la media, si va adesso sul finire addirittura di arrivo per Turandot che va comunque abbastanza in scioltezza, sia pure ovviamente sollecitata dal proprio interprete. chiude Turandot con un tempo utile per la classifica, dovremmo essere intorno al 2,7 con una buona seconda parte di gara.